Mister, dopo un primo tempo equilibrato in cui avete preso gol su una disattenzione, nel secondo tempo... No, scusami, non abbiamo preso gol su una disattenzione, abbiamo preso su un corner completamente inesistente e su un fallo a nostro favore. Al 43-45 del primo tempo. Partita finita a primo tempo. Nel secondo tempo si può dire che è mancato solo il gol? No, nel secondo tempo è mancato quello che è mancato già a Varazza e che ti avevo detto. La capacità di condurre una partita con più attenzione, una rabbia diversa negli ultimi 20 metri e un arbitraggio, secondo me, diverso da quello di oggi. Perché con un arbitraggio così, se non ci dai i rigori a chi ci ha dato oggi, difficilmente potremmo avere dei rigori a favore. Nonostante la sconfitta, è contento della prestazione dei suoi uomini? No, non sono contento, non ero nemmeno contento sul 4-0 a Varazza perché credo che la squadra debba riuscire a capire e a leggere certe situazioni di gioco diversamente. Dobbiamo lavorare intensamente perché se poi riusciremo ad andare alle finali, ma oggi l'abbiamo compromessa parecchio alla fase finale, dobbiamo recuperarla con squadre più importanti come il Campomarone e l'Albenga, a questo punto i risultati, e il Pietra. E vedremo cosa succede, ma giocando così soffriremo tantissimo. Grazie. Grazie a te. Grazie.